Benvenuti a Crossroads. Sembra che a Washington il ricatto sia un problema serio e che i parlamentari vengano attirati in situazioni compromettenti, utilizzate poi per influenzare loro e le politiche di questo paese. Sono in molti a dirlo a Washington, richiamando l'attenzione sulla questione delle trappole tese da regimi come il Partito Comunista Cinese, la Russia e altri. Un recente servizio girato sotto copertura dal giornalista investigativo James O'Keefe ha riaperto il dibattito sull'uso del ricatto a Washington. O'Keefe ha parlato con uno stagista di Capitol Hill che ha detto di essere la conoscenza di festini clandestini a Washington legati a un sistema di ricatto dei parlamentari. Ovviamente questo crea gravi preoccupazioni. Guardate. dark male. He was black male? Pretty much. Whoa. So most members, they actually have spouses because they're married. They have affairs with other council people, Congress people, some of their members getting often. And they have parties and stuff. Like the sex parties. Ora l'attenzione è soprattutto sul deputato Madison Cawthorn, colpito da scandali che hanno rovinato la sua reputazione e la sua carriera politica. Forse ricorderete che poco dopo le sue dichiarazioni pubbliche era stata diffusa una sua foto o un video di nudo. Lui aveva affermato che si trattava di una forma di punizione perché aveva detto che i parlamentari fanno orge di sesso e cocaina. Era il 2022. Il Washington Examiner ha scritto il deputato Madison Cawthorn ha detto che stava solo scherzando con un amico in riferimento al video che ha definito come l'ultimo scoop destinato a distruggere la sua carriera politica. Il deputato, 26enne, che nelle ultime settimane è stato coinvolto in una serie di controversie, sempre nel 2022, ha rilasciato una dichiarazione in cui sembra confermare l'autenticità di un breve filmato che lo mostrava nudo a letto con un altro uomo in atteggiamenti osceni e ha aggiunto «E' stato un nuovo attacco. Anni fa, in quel video, ero volgare con un amico, ma per scherzo. Ci comportavamo in modo stupido. Scherzavamo. Questo è tutto. Non nego. Aveva detto che ci sarebbe stato uno stilicidio e ha aggiunto «Il ricatto non vincerà. Noi vinceremo». E poi, poco più di un mese fa, Cawthorn ha fatto notizia dicendo che, naturalmente, tutto è venuto fuori dopo che aveva affermato che i colleghi parlamentari si facevano di cocaina e lo invitavano alle orge. Ora, il leader della minoranza della Camera, Kevin McCarthy, ha incontrato Cawthorn e dopo ha dichiarato ad Axios che Cawthorn ha ammesso di aver esagerato tali affermazioni. Ma, visti gli attacchi successivi a Cawthorn, molti si chiedono se fossero davvero esagerate. E ancora, i funzionari della sicurezza dei trasporti avrebbero confiscato una pistola a Cawthorn e sarebbe la seconda volta, da quando è deputato, che viene fermato in aeroporto con un'arma. Cawthorn ha subito controlli per l'uso di denaro pubblico in un resort di lusso e per la violazione delle leggi sull'insider trading. Non lo fanno tutti? Un'associazione per la moralità ha presentato una denuncia contro di lui accusandolo di aver avuto una relazione inappropriata con uno dei suoi collaboratori. Quindi, Madison Cawthorn ha detto pubblicamente che a Washington ci sono orge di sesso e cocaina che tutti i parlamentari ci vanno e che cercano di far partecipare anche lui. Dopo questa affermazione, viene invitato a questi incontri privati. E' costretto a dire di aver esagerato e poi escono tutti questi attacchi che distruggono la sua carriera politica. Ora, svanito il polverone, Cawthorn rilascia una nuova intervista in cui parla di fatti recenti, molto forti, che stanno uscendo da Washington. La gente inizia a dire che forse aveva ragione. Gatway Pandit scrive In un'intervista con Benny Johnson, l'ex deputato Madison Cawthorn afferma che il governo si serve di trappole per ricattare i politici. Si legge Le accuse di Cawthorn suggeriscono delle manovre interne al governo, che utilizza soggetti attraenti per addescare e compromettere i funzionari pubblici. Nell'intervista, Cawthorn ha descritto scenari in cui individui straordinariamente attraenti, che definiva con il termine 10, cioè da voto 10, apparivano in luoghi inaspettati e mostravano un forte interesse per i politici. Ha fatto intendere che tali operazioni sono orchestrate da agenzie governative all'interno del nostro governo per mantenere il controllo sui parlamentari. Sentite. Oltre al video sotto copertura di James O'Keefe, c'è un'altra storia recente. È stato scoperto un giro di sesso clandestino a Washington, che operava in diversi stati, e che sembra in linea con tutto questo. Leggiamo il Daily Mail. Gli esperti di intelligence sono sempre più convinti che sei bordelli di alto livello nei sobbordi di Boston e Washington DC siano stati creati da una nazione straniera come trappole ai fini di spionaggio. E poi, si ritiene che i bordelli, presumibilmente gestiti da una donna sudcoreana di 41 anni, prendano di mira politici funzionari governativi di alto livello e fornitori della difesa. E ancora, il mistero è quale paese ci sia dietro. Forse la Russia, la Cina, la Corea, o addirittura Israele, o forse tutti questi. Un ex ufficiale operativo della CIA, in un'intervista esclusiva al Daily Mail, ha detto «Accusare i coreani potrebbe essere una falsa pista per permettere alla Cina o un altro paese di negare in caso il complotto fosse svelato. Cioè, anche se questo bordello di alto livello ha come obiettivo principale politici, appaltatori, eccetera, la copertura coreana forse serve a nascondere il vero paese dietro all'operazione». Ci sono molti altri a denunciare i ricatti. Il deputato Tim Barkett, commentando altri casi, ha affermato di recente che a Washington si usano delle trappole e sono anche venute fuori delle registrazioni segrete usate per ricattare i parlamentari, che in pratica perdono la loro indipendenza. E le persone che li ricattano gestiscono le loro scelte politiche per interessi stranieri o attraverso qualche apparato deviato all'interno del nostro governo. Trappole, ricatti, estorsioni, di solito, si vedono nei romanzi, ma ormai sono molte le segnalazioni di ricatti su politici e altre persone di rilievo nel governo e negli ambienti economici. Qui, la Presidente dell'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari si è dimessa per un ricatto. Leggiamo su CNN. La Presidente dell'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, Tracy Kasper, ha annunciato le sue dimissioni, sostenendo di essere stata ricattata. La Kasper guidava la più grande organizzazione professionale della nazione da agosto, quando aveva sostituito l'ex Presidente dimessosi per accuse di molestie sessuali. Strana analogia. La Kasper ha informato la dirigenza dell'NAR di aver ricevuto minacce per una questione passata, personale e non finanziaria, che sarebbe stata rivelata se non avesse rinunciato alla propria posizione nell'NAR. Insomma, il ricatto era per costringerla a fare qualcosa. Nel corso dell'ultimo anno, l'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari ha ricevuto diversi colpi, anche se l'impennata dei tassi dei mutui ha spinto le vendite di case ai livelli più bassi degli ultimi anni e gli acquirenti hanno visto il mercato peggiore degli ultimi decenni. Forse questo c'entra. Forse qualcuno vuole controllare il prezzo degli immobili? In agosto, l'ex presidente, Kenny Parcell, si era dimesso in seguito ad accuse di molestie sessuali. Le accuse rivelate dal New York Times riguardano le denunce di attuali ed ex dipendenti della NAR, che riferiscono contatti inappropriati e invio di foto e messaggi osceni. Parcell ha negato le accuse, dicendosi innocente. La CNN ha chiesto a Parcell un commento, ma non ha ricevuto risposta. Si evidenzia che la Casper a quel punto è intervenuta, promettendo di affrontare le preoccupazioni dei membri e di tutto il personale, e ora è stata costretta ad andarsene. Sembra che alcuni individui vogliano impedire a certe persone di raggiungere quella posizione di potere, o che cerchino di controllarle e se si rifiutano vengono ricattate. Pare che esistano gruppi che, per allontanare leader che non vogliono, usano il ricatto, accuse di molestie sessuali incluse. Parlano di contatti inappropriati o di messaggi osceni, o ad esempio di situazioni scandalose per cambiare le strutture di potere negli Stati Uniti. Forse alcuni di questi attacchi e scandali a cui stiamo assistendo mirano a qualcos'altro. Forse non sono quello che sembrano. Adam Aron, amministratore delegato di AMC Entertainment, tempo fa ha dichiarato di essere stato vittima di ricatto nel 2022. Adam Aron, il colorito e schietto amministratore delegato di AMC Entertainment, ha rivelato su X Twitter che l'anno scorso è stato vittima di un tentativo di ricatto, e poi definisce la vicenda come una questione del tutto personale e ormai chiusa. Ha detto di aver denunciato il tentativo di ricatto al Consiglio di Amministrazione della AMC e alle Forze dell'Ordine. L'autore, che lui non conosceva, a luglio è stato arrestato e poi condannato. La rivelazione di Aron è arrivata subito dopo la pubblicazione su Same4 di un articolo in cui si parlava di un suo coinvolgimento in un sistema di falsa identità. Leggiamo, l'amministratore delegato ha inviato immagini e messaggi sessualmente espliciti in uno scambio di messaggi durato settimane con una donna, che poi ha cercato di estorcergli centinaia di migliaia di dollari usando identità false. La donna, C. Blackwood, di New York, è stata condannata a luglio. Ci sono state altre storie simili. Jeff Bezos, di Amazon, ha dichiarato di aver subito un'estorsione in uno scandalo molto simile. E qualche anno fa, dei soldati americani sono stati ricattati da un giro di criminali che operavano dalle carceri. Anche Elon Musk ha detto di essere stato ricattato, non sessualmente, ma da organizzazioni che cercavano, ad arte, degli scandali su Twitter, attribuendo false frasi di odio antisemita, inventando cose false per spingere gli inserzionisti ad abbandonare Twitter, a meno che Elon Musk non cedesse alle richieste di censura di queste aziende. Lui ovviamente si è rifiutato. Cose simili sono successe anche nell'NFL e sulla morte del quarterback di Ann Hoskins un paio di anni fa. NBC Sport dice Un anno fa, Dian Hoskins è morto dopo essere stato investito da un camion su un'autostrada a Miami. Rimangono molti interrogativi sulle circostanze dell'incidente. E poi, la famiglia vuole risposte. In una dichiarazione alle Camperte del Washington Post, l'avvocato Rick Elsie sostiene che il conducente del camion è responsabile dell'incidente e osserva che nella lunga dichiarazione, con una argomentazione distinta e rivelatrice, ritiene che Dian sia stato preso e drogato ai fini di ricatto e rapina. E ancora, poco prima della sua morte, gli era stato rubato un orologio molto costoso. E poi, naturalmente, c'è Jeffrey Epstein. Quando si parla di questi giri di alto livello che prendono di mira politici e personalità in vista per ricattarli, molti pensano a Epstein. Nei casi precedenti alla sua morte o presunto suicidio, l'FBI ha rilasciato documenti e informazioni quando è stato accusato di traffico sessuale ai danni di una minore. Si dice che nell'isola di Epstein, l'isola di Lolita, ci fossero video a contenuto sessuale e molte delle persone registrate erano funzionari di alto livello, politici internazionali, uomini d'affari, eccetera. Molti si sono chiesti perché Epstein registrasse gli atti sessuali di tutti questi politici. Recentemente, Epstein è tornato alla ribalta dopo la pubblicazione di alcuni nomi legati al processo della sua collaboratrice Ghislaine Maxwell. Pochi mesi fa, mentre si dibatteva su Epstein, emersa nuovamente la questione del ricatto politico. Il deputato repubblicano Tim Barkett ha affermato che a Washington si usano trappole, che certe scene vengono registrate di nascosto, proprio come nelle accuse ad Epstein, e che queste registrazioni vengono usate per ricattare i parlamentari. Il britannico Independent dice «I nomi cancellati includono le vittime di abusi sessuali, gli ex dipendenti di Epstein e i testimoni che hanno contribuito a costruire l'accusa contro il finanziere ormai morto». Molti dei nomi e il registro dei voli di Epstein erano già pubblici, in parte. Johnson dice che il signor Barkett aveva chiesto che i nomi venissero rivelati in Parlamento e ha insinuato che i parlamentari volessero nascondere la loro complicità, opponendosi alla divulgazione delle informazioni, cioè accusava i nostri parlamentari di voler impedire che i documenti di Epstein vengano resi pubblici, forse per nascondere la propria complicità. E poi, sembra che voi stiate litigando alla Camera. Perché questo muro di protezione? E soprattutto, in un'intervista recente, ha detto che alcuni membri del Congresso potrebbero essere personalmente compromessi da questa vicenda e che non vogliono che la verità venga a galla. Può spiegarci meglio? Questa è la domanda di Johnson a Barkett. Barkett parla di inganni e ricatti per controllare segretamente i voti dei parlamentari e sostiene che gli intermediari politici a Washington usino vecchie trappole per costringere i parlamentari a votare per cose pazzesche. Ovviamente, la trappola è il ricatto sessuale. Ecco come funziona. Sei in visita all'estero, o sei in un'altra città, o sei in un motel, o in un bar a Washington, e ti si presenta davanti una o uno molto attraente che ride alle tue battute e tu gli offri da bere. E poi, ti ci trovi insieme in una stanza nudo e guarda caso stai per fare una votazione importante. E che succede? Una persona distinta arriva e ti dice Ehi amico, ho certe registrazioni su di te. Oppure, per caso, sei stato in un motel con qualcuno? Ecco, ora è meglio se voti come ti dico io. E qui mi chiedo, se è proprio così, perché non ci occupiamo di questi soggetti che ricattano i nostri politici? Questo non è uno dei problemi più seri del paese? Perché questo dice esattamente le stesse cose che diceva Jeffrey Epstein. Coincide con quello che ha detto Madison Cowthorn e con quello che James O'Keefe ha rivelato in questa registrazione segreta. Arrivano molte prove da più fonti, fonti serie. I nostri parlamentari vengono spiati. E a proposito di Epstein e delle sue frequentazioni, tutto porta a sospettare della sua morte e dei suicidi di altre persone molto vicini a lui. C'è la strana storia del collaboratore di Bill Clinton, Mark Middleton, che sembra si sia sparato al petto con un fucile da caccia e che poi si sia impiccato. Non so se mi spiego. Leggiamo il New York Post. Un fucile da caccia è stato scoperto vicino al corpo dell'ex assistente di Clinton, che era in rapporti con Jeffrey Epstein, morto suicida l'anno scorso. Lo ha riferito la polizia questa settimana, nonostante i rapporti iniziali, dicessero il contrario. Secondo altri documenti ottenuti dal Daily Mail, un fucile da caccia Stöger calibro 12 si trovava a 30 metri dal corpo di Middleton, quando è stato trovato morto all'Afer Ranch di Perryville, in Arkansas, il 7 maggio 2022. E poi, nel rapporto iniziale di ieri, il giornale aveva affermato che non c'era alcuna arma sulla scena. E improvvisamente c'è un'arma? Sarebbe normale vedere un gigantesco foro di fucilata nel petto di un uomo e trovare l'arma nelle vicinanze. Ma non c'è stato detto questo. Hanno detto che si era impiccato e i rapporti successivi del sergente Kenan Carter descrivono come ha fatto Middleton, 59 anni, per portare a termine il suo tentativo di suicidio. Madison era in piedi su una panca e si è legato un cavo elettrico intorno al collo prima di spararsi al petto. E queste sono le parole esatte. Pare che il signor Middleton abbia premuto il grilletto dell'arma scaricandosele in petto e poi si è caduto dalla panca facendo sì che il filo si stringesse, soffocandolo. Quindi immaginatevi, vi state impiccando, vi sparate al petto, poi lanciate il fucile a nove metri di distanza e poi vi impiccate. Una dinamica che non fa una grinza. Ci sono altri casi simili che fanno dubitare molto su queste cose, ma tornando al ricatto e all'utilizzo di foto compromettenti e di sistemi, tra cui, per esempio, il traffico sessuale di minorenni di Jeffrey Epstein, in quel contesto si inseriscono le misure restrittive volute da Joe Biden alla pubblicazione di foto di persone nude senza il loro consenso, presumibilmente a fine di ricatto. Ovviamente questo si inserisce nel caso di suo figlio Hunter, coinvolto in molti scandali, perché Hunter Biden è un tipo che non c'è nemmeno bisogno di ricattare. Lui fa tutto da solo. Hunter Biden ha la strana abitudine di fotografarsi mentre si droga e fa flessioni nudo e stranezze simili, ma le restrizioni possono anche limitare l'uso di materiale di ricatto, cioè non si limitano a impedire che vengano diffuse alcune immagini di Hunter Biden, possono riguardare altre forme di estrusione e ricatto. Il Washington Examiner dice il presidente Joe Biden ha esposto i nudi fatti sulle immagini di nudo parlando della pornografia non consensuale e Biden ha detto testualmente tutti conoscono qualcuno, tutti, dice lui, tutti conoscono qualcuno che sia stato in qualche modo ricattato per una sua foto, l'ennesima gaffe. E poi scommetto che tutti conoscono qualcuno da qualche parte che in una relazione intima ha scattato una foto di un suo amico nudo o magari in una certa posizione compromettente e che poi ha fatto un ricatto. E ancora, Biden ha detto questo durante la cerimonia di firma della riautorizzazione della legge sulla violenza contro le donne. L'angolazione dell'articolo qui è che la nuova legge di Biden sia il solito tentativo di mettere al sicuro Hunter Biden, ma comunque io penso ci sia del vero, cioè ci sono persone che fanno foto o video compromettenti, soprattutto a Washington, per poi ricattare. Ora, naturalmente, è un reato penale pubblicare immagini o video di qualcuno senza il suo consenso, ma io credo che qui si tocchi qualcosa di più profondo, ovvero che ci sono organizzazioni che cercano di controllare i nostri politici. A presto! A presto! A presto! A presto!